La Big Studios Movie qui al Teatro Comunale Maria Caniglia di Sulmona, dove si è appena concluso il Gran Galà di Canto, ospite d'onore è Piero Mazzocchetti. Come nasce l'idea di partecipare a questo evento? Nasce dall'idea e dalla volontà di persone, persone per bene che intorno alla musica, intorno al talento, cercano di creare una serata indimenticabile come questa. La città di Sulmona è risposto come il pubblico delle grandi occasioni, un teatro straordinario come questo. E la mia volontà di ascoltare i talenti, la volontà anche di farmi ascoltare, cercando di scambiarsi delle emozioni su un palcoscenico, che è un palcoscenico importante, come dicevo prima. Augurando a tutti questi ragazzi, visto che ho già calcato i palcoscenici dell'Ariston, di poter anche loro un giorno, spero anche il prossimo anno, approdare la Carmessa Sanremese. Ti sei esibito qui sul nostro palcoscenico con due canzoni del repertorio della musica napoletana. Perché questa scelta? Perché la musica napoletana, anche se Caruso è stata scritta da Lucio Dalla, non intendeva scrivere nella lingua partonopea, ma l'ha dedicata al più grande tenore mai esistito, che era Enrico Caruso. E ho solo il mio perché è un inno italiano nel mondo, è una bandiera della quale noi siamo orgogliosi, è una canzone che sarà tradotta per inoltre 60-70 lingue. E poi ogni volta che la interpreto mi dà sempre delle forti emozioni, anche se è una canzone fischiettata anche sotto la doccia di tutti gli italiani, anche forse nel mondo. Però la musica è bella e straordinaria per questo, è un linguaggio universale, è un linguaggio che arriva senza barriere, senza religione, senza fassioni o colori politici, e specialmente in questo periodo di congiuntura così difficile nel mondo. Come ci si sente ad essere dichiarati eredi di Luciano Pavarotti? Cosa che lui stesso ha detto di te? Beh, la stampa dice sempre tante cose, io non mi sento affatto di essere l'erede di Pavarotti o l'erede di nessuno, ogni uomo, ogni artista ha una sua artisticità, integra, individuale e personale, credo che bisogna in qualche modo renderla sempre più originale possibile. Il maestro Pavarotti è stata una celebrità nel mondo della musica, nel mondo della lirica, ha dato tanto all'Italia, nel mondo, e credo che sarà difficilissimo seguire le sue orme. Io nel mio piccolo, sono ancora giovane, ho tanto ancora da dimostrare, se Dio vuole, cercherò di essere sempre con la bruzzesità nel sangue che mi contraddistingue, di cercare di portare alti colori della nostra terra, perché è una terra che ha bisogno soprattutto di ribalta, e credo che la musica negli ultimi anni sta facendo un grandissimo lavoro. Un'ultima domanda, nella tua biografia è scritto che contro il volere dei tuoi genitori, che volevano magari che studiassero università, tu sei andato a Monaco di Baviera ad inseguire il sogno della musica, un ragazzo che fa le tue stesse scelte oggi, che cosa gli dici, che consiglio gli dai? Un consiglio che do ai ragazzi è di essere sempre se stessi, di cercare di mantenere sempre i piedi per terra, ambendo a palcoscenici importanti, grazie allo studio, grazie al sacrificio, grazie alla tenacia. I miei genitori ambivano sicuramente uno studio professionale, come ogni genitore ambisce per un proprio figlio. Cosa volevano che studiassi? Ma forse volevano che studiassi economia e commercio o giurisprudenza, però io sento bambino avevo in qualche modo espresso attraverso la musica la mia volontà di essere un musicista, e la mia volontà di essere un artista professionista e di regalare emozioni e di catturarle dal pubblico che in un teatro ti viene ad applaudire. Sono felicissimi, sono orgogliosi anche perché poi da un bambino ho fatto solo questo e solo questo so fare. Grazie a Piero Mazzocchetti, grazie. Grazie mille.